E' una pezza al vento. E' una pezza al vento. E' una pezza al vento, con tutte le moglice rusche. Questa cosa. E' una rinna. E' una Maria Sofia che ha dato l'anima per il Napoletano, essendo solo regina, per una sola anima, non se la parla mai, non se ne senti. Poi, vabbè, sto lavorando ad un mondo di biografia di Caribatti. Tutti i materiali che sono accoglienti. E poi altri argomenti. Rionio di Napoli, quartiere di Napoli.